una telecamera accesa di fronte a un gruppo di civette ecco cosa accade a piazzarla lo youtuber codoro cehab incuriositi dall'oggetto i bellissimi rapaci hanno iniziato a studiarlo e ad avvicinarsi con cautela all'obiettivo ponendosi involontariamente al centro dell'attenzione tra sguardi veramente curiosi e topini catturati da rapaci il video sta facendo il giro del web grazie